E' una scuola calcio che cresce con buoni risultati sul campo in un clima che lascia trasferire molto ottimismo. Stiamo parlando della SD Aranova, ad oggi un vivaio giovane ma di sicuro a venire. Di questo non è convinto il responsabile della scuola calcio, Rinaldo Tognazzi. C'è una crescita di bambini sul lato sportivo e per quanto riguarda la scuola calcio abbiamo dei bravi tecnici che dedicano molto ma molto tempo, con tanta passione. Il numero di ragazzi è cresciuto, siamo in tanti. Una crescita che si avverte con i risultati, così ha detto il direttore sportivo, il giovane Alessio Murzia. Abbiamo creato una scuola calcio a linea di bambino. Quello che è l'obiettivo, lo sappiamo, è costruire la prima squadra del futuro e cercare di costruire le squadre per il futuro di questa società. Penso che gli allenatori siano bravi, sono qualificati, gente preparata che ci sta dando grandi soddisfazioni. È una bella esperienza, è il primo anno che lo faccio però è veramente una bella esperienza. Com'è giocare qui all'Aranova? È molto bello. Gabriele, che ruolo giochi? Portiere. Il portiere, è un ruolo difficile il tuo? Così, così. Tu ti chiami? Manuel. Manuel, a che ruolo giochi? Centrocampista. È normale che costruire una squadra con i propri giovani, con i propri ragazzi, con i ragazzi del territorio, è quello che è il sogno di questa società. Vedremo se ci riusciremo. Di certo è un progetto a lungo termine perché non sarà oggi, non sarà domani, ma credo che nel futuro di questa società avremo una squadra formata con i propri ragazzi.